Gnocchetti di patate al salmone e rucola. Un delizioso primo piatto sfizioso ed elegante, ideale per un'occasione speciale, i gnocchetti di patate al salmone e rucola. Una ricetta facile e veloce da preparare, con ingredienti di stagione e un sapore unico ed irresistibile, che piacerà a tutti. Gli ingredienti necessari per preparare i gnocchetti di patate al salmone sono 500 g di patate, 200 g di farina di grano tenero, 2 uova intere, sale e pepe cubi, 400 g di salmone affumicato, 150 g di rucola, olio extravergine d'oliva cubi. Per preparare i gnocchetti di patate al salmone e rucola, procedete nel seguente modo. Lavate le patate, sbucciatele e tagliatele a cubetti. Fatele bollire in acqua leggermente salata fino a che non saranno ben morbide. Passatele con uno schiacciapatate e mettetele in una ciotola capiente. Aggiungete la farina, le uova, sale e pepe al composto di patate e mescolate con una forchetta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Ricavate dall'impasto delle piccole palline e schiacciatele con le dita fino a formare dei gnocchetti di patate. Fate bollire in abbondante acqua salata i gnocchetti di patate e, appena saliranno a galla, scolateli e lasciateli intiepidire. In una padella antiaderente fate scaldare un filo d'olio e aggiungete il salmone tagliato a listarelle. Fate cuocere fino a che non sarà ben dorato. Unite nella padella anche la rucola lavata e asciugata e fate insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiungete i gnocchetti di patate al salmone e rucola e fate saltare il tutto per qualche minuto. Servite i vostri gnocchetti di patate al salmone e rucola ben caldi.